La Grecia ci abbaglia con lo splendore dei suoi monumenti, ma per capirla, per comprenderla veramente, occorre vivere la vita quotidiana della sua gente. Ogni paese è ricco di aspetti sconosciuti. Conoscerli è un'avventura affascinante. Il milione, enciclopedia di tutti i paesi del mondo. In edicola, a sole 2200 lire, i primi due fascicoli. 32 pagine del grande Atlante geografico e in regalo l'Atlante stradale d'Italia.